Gabriel Garco, il celebre attore italiano, ha affascinato il pubblico con il suo immenso talento e il suo innegabile fascino. Ma c'è molto di più dietro Garco di quanto si possa immaginare. In una recente intervista alla prestigiosa rivista Oggi, l'amato attore ha svelato una serie di eventi inediti del suo passato, portando alla luce una verità nascosta che ha tenuto celata per oltre tre decenni. Garco è emerso per la prima volta alla ribalta negli anni 90, non solo come attore di talento, ma anche come simbolo di desiderio e fascino. La sua presenza magnetica gli ha balso il titolo di uno dei sex and dei più ammirati nell'industria dell'intrattenimento, conquistando i cuori di persone in tutto il mondo. Tuttavia, dietro i riflettori, Garco si è trovato invischiato in una rete di intense relazioni romantiche, diventando il centro di numerosi appassionati amori che alimentavano speculazioni e pettegolezzi. Per anni, l'enigmatico attore è rimasto un mistero, nascondendosi persino alle persone più vicine. Nell'intervista, Garco ha condiviso le difficoltà che ha affrontato, spiegando che in quel periodo la società non era ancora pronta ad accettare certe rivelazioni, in quanto riguardavano argomenti considerati troppo delicati all'epoca. Riconciliarsi con la propria verità non è stato affatto semplice per Garco. Riflettendo sul suo passato, ha rivelato, ho avuto due o tre esperienze all'estero quando avevo 17 anni e ho capito che qualcosa non andava nel modo in cui questa società funziona. Non è un passaggio facile, è una scoperta che ti chiude molto. Oggi, forse, è più facile, più accettabile. Fortunatamente, l'opinione pubblica è diventata più sensibile su queste questioni, riducendo notevolmente il rischio di discriminazione. Tuttavia, è stato un incontro fatale sul set di un film a segnare una svolta nel viaggio di Garco. Nel 1989, mentre lavorava con i figli del leggendario regista Dino Risi, Garco posò gli occhi per la prima volta sulla bellissima Monica Bellucci. La sua bellezza era incomparabile e in quel momento, realizzò qualcosa di profondo. Se non sento l'impulso di corteggiare una donna tanto bella come Monica, rifletteva, allora significa che desidero qualcos'altro. Fu in quel momento che l'attore non poté più negare la sua vera natura, anche se ci sarebbe voluto molto tempo per trovare il coraggio di condividerla con il mondo. La storia di Gabriel Garco è un viaggio di autoscoperta, resilienza e, in definitiva, di abbracciare la propria autenticità. Condividendo il suo passato, non solo illumina il suo percorso personale, ma contribuisce anche all'evoluzione delle attitudini sociali verso identità diverse. Con il suo talento straordinario e la nuova libertà acquisita, Garco continua a ispirare gli altri a abbracciare le proprie verità, promuovendo un mondo che celebra l'autenticità e l'accettazione. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto.